Sono sulla piattaforma digitale, i giornalisti potranno prenotarsi per seguirli. Parliamo dei corsi gratuiti di formazione della categoria, finanziati per la prima volta dalla regione con 20.000 euro su progetto dell'Ordine dei giornalisti del Molise. Saranno una cinquantina e si terranno nella sede della categoria a Campobasso con docenti molisani. Un'opportunità prevista dalla legge regionale sull'editoria che contempla e disciplina anche la formazione professionale, ha spiegato il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino nella conferenza stampa di presentazione dei corsi nel parlamentino della sede della regione. La parola d'ordine è utilizzare i fondi regionali al meglio, il primo caso nella storia nel quale la regione ci finanzia dei corsi. Noi siamo stati abili a cogliere al volo questa opportunità. Spero che i giornalisti del Molise siano altrettanto abili nel seguire i nostri corsi fatti da docenti tutti molisani, all'avanguardia. È il primo caso nella storia d'Italia dove la regione finanzia dei corsi con legge regionale e quindi sono contento di iniziare a febbraio e di chiudere a giugno. La formazione è fondamentale per un giornalismo chiaro, deontologico, plurale perché l'informazione ha un ruolo delicatissimo, ha sottolineato il Presidente della Regione Donato Toma. Sono stati illustrati i corsi che si terranno per tre mesi a partire dalla prossima settimana. Sono tutti corsi ovviamente in presenza, gratuiti, dove la possibilità è per i colleghi del Molise che lavorano in testate molisane di avere la formazione gratuita nel triennio 23-25. Parliamo lingua dei segni, giornalismo digitale, lingua e scrittura cinese, edizione, podcast, montaggio, audio-video, ma soprattutto anche corsi teontologici sulle funzioni dell'Agicom, quindi sui MAG, sulla Parcondicio. Quindi un ampio ventaglio che dà la possibilità a tutti di seguire gratuitamente delle lezioni per dar vita ad un'informazione più decorosa e possibile legale perché la professione va avanti e quindi se non studiamo ci fermiamo.